Bene, buon pomeriggio a tutti. Ho il piacere di riferirvi la conclusione di un anno che possiamo considerare positivo. Si conclude un anno nel complesso positivo per quanto riguarda l'attività del Ministero dell'Interno, si conclude un anno nel complesso positivo per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. Io vorrei cominciare dal dato che mi sembra il più importante, e cioè il calo dell'indice di delittuosità nel nostro Paese. Voi sapete che l'indice di delittuosità è il rapporto tra i delitti commessi in un determinato territorio e il numero degli abitanti che risiedono in quel territorio. Bene, l'indice di delittuosità in Italia nel 2014 è calato del 7,7%. È un risultato importante perché equivale, e voi ve ne accorgerete leggendo le slide che troverete sul sito del Ministero al termine di questa conferenza stampa, è calato di oltre 150.000 il numero dei delitti totali commessi nel nostro territorio. Si tratta di un risultato molto importante che ha un suo sviluppo, e cioè noi abbiamo avuto un meno 11,7% rispetto all'anno scorso riguardo gli omicidi, meno 11,7% riguardo gli omicidi, meno 13% riguardo le rapine. Il calo più lieve è stato quello riguardante i furti, che è stato un calo del meno 1,1%. Si tratta di dati molto importanti con questo calo della delittuosità del 7,7% che è un risultato significativo che voglio proprio valorizzare. Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata sono state compiute 166 importanti operazioni di polizia giudiziaria e questo significa che il numero totale delle operazioni di polizia giudiziaria nel 2014 rispetto al 2013 è aumentato del 18,6%. Le persone arrestate sono state 1.687 con un aumento del 5,5%. Abbiamo in questa logica mantenuto una strategia di attacco nei confronti dei latitanti. Sono stati arrestati 19 latitanti appartenenti all'elenco dei latitanti più pericolosi e 108 latitanti appartenenti a gruppi di rilievo. Anche sul fronte dell'aggressione ai patrimoni criminali mi sembra davvero importante il risultato raggiunto. Oggi abbiamo un valore complessivo dei beni sequestrati equivalente a 8 miliardi 626 milioni 488.437 euro. E' un valore complessivo di beni confiscati equivalente a oltre 3 miliardi di euro. Quindi noi abbiamo beni sequestrati per oltre 8 miliardi e beni confiscati per oltre 3 miliardi. Anche sul fronte della lotta alla droga abbiamo un risultato veramente molto importante perché segna un incremento notevolissimo delle droghe sequestrate. Questo è un risultato importante e al tempo stesso un indice che ci fa capire quanto sia crescente il fenomeno. Parliamo di 150 mila chili, quindi 150 tonnellate di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate. Si tratta di 884 chili di eroina, 3679 chili di cocaina e 144.721 chili di cannabis. Quindi abbiamo sequestrato nella sostanza 144 tonnellate di cannabis, 3 tonnellate 6 di cocaina e quasi una tonnellata di eroina. Come chi segue le attività del Viminale saprà una delle priorità di questo anno a cominciare dal primo gennaio e poi rafforzata con una circolare dei primi di agosto è stata la lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale. Questo è uno dei risultati di cui andiamo più orgogliosi perché qui stiamo parlando in termini di beni sequestrati del 505% in più, cioè abbiamo quintuplicato i beni e il loro valore in termini di percentuale rispetto all'anno precedente. Perché le operazioni condotte nel periodo gennaio-novembre del 2014 sono state 52.156 sequestrando 643 milioni quasi di euro rispetto ai 100 milioni di euro del 2013. Quindi c'è stato un incremento del 500%. L'anno 2014 è stato l'anno in cui abbiamo raccolto anche i frutti della nostra legge contro la violenza di genere con quella parola alla quale non sono particolarmente affezionato ma che è entrata nell'uso comune, cosiddetta femminicidio. Bene, dal 15 ottobre del 2013 alla fine di quest'anno sono stati rilevati omicidi in diminuzione dell'11,1% e specificamente è cresciuto il numero degli ammonimenti, sono stati utilizzati i nuovi strumenti ma quello che è più importante dire è che è diminuito del 9,45% gli omicidi con vittima di sesso femminile. Quindi vi è stato un calo del 9,45% di omicidi con vittime di sesso femminile. Questo è un primo risultato della legge che ovviamente ci fa capire che la legge ha prodotto dei miglioramenti ma che ancora dobbiamo lavorare. La nostra strategia come voi ricorderete prevedeva un lavoro anche di prevenzione attraverso gli ammonimenti e l'allontanamento del coniuge violento. Vi posso dire che ci sono stati nel 2014 160 casi di allontanamento del coniuge violento. Questo significa pur non potendone avere la certezza che in 160 casi lo Stato, le forze dell'ordine sono riuscite ad intervenire evitando che potesse prodursi una violenza grave in famiglia al punto da avere disposto l'allontanamento del coniuge. 160 casi, badate bene ai numeri perché dietro ognuno di questi numeri c'è un caso di violenza, ci sono lacrime in famiglia e c'è il rischio che questa violenza possa risultare letale e fatale nei confronti della donna. sempre nel 2014, oltre a raccogliere i frutti del lavoro dell'anno scorso con i risultati che vi ho illustrato in riferimento alla legge contro la violenza di genere che era stata approvata nell'autunno del 2013, noi abbiamo approvato un decreto che ha riguardato la violenza negli stadi. Bene, abbiamo confrontato il periodo di inizio campionato dello scorso anno con il periodo di inizio campionato corrispondente di questo anno. Risultato, meno 12% di partite con feriti, meno 22% del numero complessivo dei feriti, meno 30% del numero dei feriti tra gli sportivi, i tifosi e invece è calato, ma un po' di meno, il numero dei feriti all'interno delle forze dell'ordine. Siamo passati da 64 feriti a 50 feriti. È calato del 22% il numero dei poliziotti, delle donne e degli uomini in divisa che sono stati feriti durante le manifestazioni sportive, a fronte di un calo del 30% del numero dei nostri concittadini feriti. Questo significa anche in questo caso che le norme hanno funzionato, ma vi do anche un altro indice che le norme hanno funzionato perché vi è stato un aumento del 50% del numero degli arrestati che sono passati da 82 a 123. In questo momento sono in vigore 4973 provvedimenti di DASPO, di cui 533 relativi proprio all'anno 2014. Abbiamo avuto e qui allargo l'orizzonte al periodo da cui io ho assunto la guida di questo di Castero perché è un arco temporale sufficientemente ampio per farci capire la portata di quello che sto per dire 16.123 manifestazioni di rilievo in ambito nazionale di cui 6.369 di carattere sindacale e occupazionale. Cioè noi in ordine pubblico abbiamo avuto 600.123 manifestazioni che hanno rilievo e sulle quali manifestazioni siamo stati impegnati con i nostri corpi di polizia che si occupano dell'ordine pubblico a cui dedicherò parole che ritengo significative tra qualche minuto. Abbiamo avuto 240 blocchi alla viabilità stradale e 54 blocchi alla circolazione ferroviaria. Abbiamo avuto 5.957 denunciati in stato di libertà e 263 arrestati. Sempre mi riferisco alle manifestazioni in materia di ordine pubblico, cioè al tema dell'ordine pubblico e alle manifestazioni. Abbiamo quindi 263 arrestati e 5.957 denunciati. 731 sono stati i feriti tra gli operatori delle forze di polizia. Questo è un elemento che io segnalo all'attenzione di tutti. Questi numeri sono numeri importanti e io voglio ribadire che quando è in gioco la salute, la incolumità fisica di una nostra donna o di un nostro uomo indivisa, quando parliamo di questa incolumità fisica o del diritto alla salute delle forze dell'ordine, di ciascun membro delle forze dell'ordine, noi non parliamo di un diritto minore. Noi non parliamo di un diritto che è sottostante rispetto alla libertà di manifestazione. Io ringrazio tutti coloro i quali ci hanno dato una mano d'aiuto, mi riferisco proprio alle forze dell'ordine, nel garantire la libertà di manifestazione del pensiero da parte di chi è andato in piazza a protestare e al contempo la libertà di godere della propria città di tutti coloro i quali non sono andati in piazza a protestare. Nell'ambito della sicurezza stradale abbiamo avuto un calo del 5,8 per cento degli incidenti, del 2,8 per cento degli incidenti mortali, del 4,4 per cento delle persone decedute e del 5,8 per cento dei feriti. Anche questo è un campo assolutamente importante sul quale continueremo a lavorare e io ribadisco che occorrerà lavorare per introdurre il reato di omicidio stradale. Io credo che ci siano le condizioni legislative e la società italiana è pronta per accogliere un reato di questo genere che vada oltre le aggravanti e che configuri autonoma fattispecie di reato. Lo dobbiamo a tutti i morti che a causa di gente che senza scrupolo si è messa alla guida, non rispettando le regole e anche in stato di alterazione psichica e lo dobbiamo alle lacrime delle loro famiglie. Altro elemento che ritengo molto importante in un momento in cui troppi fanno demagogia e parlano a vanvera è il tema degli uomini che lavorano nelle forze dell'ordine e dei fondi a loro destinati e quando parlo delle forze dell'ordine in questa sede non posso che estendere la riflessione anche agli uomini del soccorso pubblico specificamente ai vigili del fuoco. Quando io sono diventato ministro della giustizia era tutto bloccato, erano bloccati i tetti salariali, era bloccato il turnover, era quando sono diventato ministro dell'interno perché ogni tanto viene dalla mia vecchia vita viene fuori il ricordo. Quando sono diventato ministro dell'interno era tutto bloccato, era bloccato il turnover, erano bloccati i tetti salariali. Bene, noi oggi possiamo dire che abbiamo sbloccato il turnover fino al 55%, possiamo dire che abbiamo sbloccato i tetti salariali che sono state assunte nel 2014, è stata già autorizzata l'assunzione di 2600 unità delle forze di polizia, che sono stati destinati 126 milioni di euro per il biennio 2014 e 2015 proprio in relazione alle esigenze delle forze di polizia per i servizi connessi a Expo ed è previsto il superamento proprio a partire dal primo gennaio dell'anno prossimo del blocco del trattamento retributivo e delle progressioni economiche del personale del comparto sicurezza e difesa dei vigili del fuoco e del soccorso civile. Proprio ieri sono stato al giuramento di un altro gruppo di ragazzi, 600 ragazze e ragazzi dei vigili del fuoco che hanno preso servizio, insomma, detto in termini chiari, più soldi e più uomini per le forze dell'ordine e anche sblocco degli stipendi per quanto riguarda i tetti salariali e tutto questo si è verificato in un momento di grande difficoltà proprio per dire che la sicurezza è stata e rimane una priorità di questo governo e di questo Paese. La nostra azione qui al Viminale si è ovviamente sviluppata anche nell'azione di contrasto alle infiltrazioni criminali negli enti locali e qui noi possiamo dire che abbiamo realizzato 16 decreti di scioglimento dei consigli comunali per motivi antimafia, 37 provvedimenti di proroga di gestioni commissariali di comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e 233 decreti di scioglimento ordinario degli enti locali e quando è ordinario nulla centra la mafia, è un atto importante che deriva da altre ragioni. Abbiamo gestito un anno come non se ne ricordano per quanto riguarda la immigrazione e voglio ricordare a tutti voi che questo è stato un anno così difficile perché l'Italia ha pagato il conto della guerra in Siria e della instabilità in Libia. Cioè ci sono state delle variabili al di là della nostra riva del Mediterraneo, lì alla riva sud del Mediterraneo, che hanno condizionato enormemente la questione dell'immigrazione. Noi abbiamo avuto un sistema che con fatica ma ha retto e siamo riusciti a centrare un grande, grandissimo obiettivo politico che è quello di una Europa che scende in mare e sta lì nel Mediterraneo con propri assetti navali, con propri assetti aerei, con uomini e con tecnici che sono stati messi a disposizione dalla Unione Europea. La nostra ambizione è più grande e riguarda una partecipazione ancora più forte della Unione Europea a presidio delle frontiere. Ma il passaggio dalla operazione Mare Nostrum alla operazione Tritone è un passaggio politicamente molto importante perché segna il fatto che l'Europa si occupa del Mediterraneo e al tempo stesso produce un risparmio per le casse italiane che hanno investito 114 milioni di euro dopo la tragedia di Lampedusa nel soccorso e nel salvataggio in mare. Io colgo l'occasione per ringraziare la Marina e tutte le forze dell'ordine che sono state in mare, a cominciare dalla Polizia, dalla Guardia di Finanza, dalla Guardia Costiera, i Carabinieri, tutti coloro i quali sono stati in mare. Bene, dopo Lampedusa l'Italia ha investito 114 milioni di euro in 12 mesi, questa operazione costerà 0 euro all'Italia perché i 3 milioni sono di provenienza europea. È una operazione, quella di Mare Nostrum, che ha consentito l'arresto di 728 scafisti con 558 interventi. È un risultato importante e per completare il quadro della nostra azione mi sembra significativo sottolineare proprio con l'evidenziatore arancione un'attività del nostro Ministero, del Ministero dell'Interno che spesso viene sottovalutata perché non raggiunge gli onori della cronaca ed è quella che riguarda l'attività a sostegno della infanzia e degli anziani in alcune regioni, mi riferisco in primo luogo alla Calabria, alla Campania, alla Puglia, alla Sicilia, a regioni particolarmente disagiate, per le quali sono stati investiti 364 piani di riparto, sono stati studiati 364 piani di riparto con un investimento di 330 milioni di euro per gli anziani e 400 milioni di euro per quanto riguarda l'infanzia. Gli anziani per avere maggiore assistenza in casa e l'infanzia finanziando agli enti locali di queste regioni la creazione di nuovi posti di asili nido in primo luogo. È una bella azione di questo Ministero ed è un qualche cosa che invito i giornalisti della carta stampata e delle televisioni che sono qui a valorizzare perché è un qualcosa che riguarda davvero quella azione del Viminale che spesso non viene giustamente valorizzata. Io concludo dicendovi che sono molto molto grato, molto molto grato alle forze dell'ordine che in questo anno si sono impegnate al massimo. In questo anno abbiamo anche avuto manifestazioni di piazza nel corso delle quali è capitato qualche incidente a seguito del quale vi sono stati duri attacchi nei confronti delle forze dell'ordine e abbiamo avuto altre manifestazioni durante le quali sono stati colpiti gli uomini e le donne in divisa del nostro Paese senza che io sentissi levarsi grida di solidarietà o gesti di grande affettuosità. Io sono qui a dire della gratitudine mia e dell'intero governo e dell'intero nostro Paese nei confronti delle forze dell'ordine, di quelle donne e di quegli uomini che indossano una divisa rappresentando la nazione, rappresentando la nostra Italia, rappresentando la nostra patria e lo fanno senza uno stipendio altissimo e con grande dedizione e devozione. A loro va il nostro sostegno e la promessa di impegnarci sempre di più per realizzare condizioni di lavoro che possano essere all'altezza di una grande democrazia come quella italiana. Del resto state vedendo altre grandi democrazie impegnate nella gestione del tema dell'ordine pubblico e del rapporto tra le forze dell'ordine e i cittadini e mi riferisco a grandissime potenze mondiali. È un tema delle democrazie moderne, è un tema di questo nostro tempo. È un ringraziamento particolare al sistema delle prefetture nel nostro Paese. Se non ci fosse stata l'efficienza del sistema delle prefetture noi non avremmo potuto reggere all'enorme flusso migratorio derivante dalla instabilità in Libia e derivante dalla guerra in Siria. Questi due fattori che hanno prodotto immigrazione hanno avuto la necessità di una gestione dell'accoglienza che ha avuto nelle prefetture un sistema di efficienza. E ringrazio anche tutte quelle comunità locali, quegli enti locali, le regioni, i comuni che ci hanno dato una mano d'aiuto. Ovviamente noi non ci accontentiamo di tutti i risultati che abbiamo raggiunto. Noi siamo convinti che l'Italia sia un posto sicuro nel quale vivere. Abbiamo anche studiato un paragone tra grandi città italiane e grandi città occidentali ed europee e non è affatto vero che le nostre città siano meno sicure delle altre città europee, delle altre grandi città europee paragonabili alle grandi città italiane. Al tempo stesso io sono qui a dire che non ci accontentiamo di vivere in un posto sicuro e lo vogliamo ancora più sicuro e questo è il motivo per cui noi ci diamo alcuni obiettivi importanti per il 2015. Allora io vorrò approvare nelle prossime settimane un disegno di legge contro il terrorismo internazionale. Questa sarà la prima priorità in ordine cronologico. Voi sapete come l'Occidente e non solo l'Occidente sia sfidato da un califfo e da un califfato autoproclamato sitale e che questa sfida è una sfida pericolosissima, insidiosa, alla quale noi siamo pronti a reagire e per la quale noi lavoriamo tutti i giorni con attività di intelligence, con attività di analisi e con attività di studio. E ovviamente facendo tutto ciò che serve. Al tempo stesso noi abbiamo l'esigenza di rafforzare la strumentazione normativa ed è il motivo per cui noi approveremo un disegno di legge sul terrorismo internazionale. La seconda priorità sarà quella che riguarda la sicurezza urbana. Noi dobbiamo fare in modo tale che le nostre città, oltre a essere delle città sicure, siano delle città che abbiano nei loro centri storici, così come nelle loro periferie, dei luoghi dove i nostri cittadini possano vivere tranquillamente anche con una sfida a coloro i quali vogliono oltraggiare i centri storici delle nostre città. Per cui noi avremo una mano ancora più dura nei confronti di quegli ambulanti abusivi che vendono merce contraffatta e avremo una mano molto dura per rendere ancora più clamoroso il risultato del più 500% del valore dei sequestri dei beni e delle merci che in questi 12 mesi sono stati sequestrati. Noi abbiamo ottenuto un più 500%, non ci accontenteremo e quindi lavoreremo ancora di più nella lotta alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e faremo una legge sulla sicurezza urbana delle nostre città. Ho parlato inoltre con tanti nostri concittadini, con tanti italiani, che pensano che nel nostro Paese non ci sia una vera e propria certezza della pena e che chi viene condannato in via definitiva poi non la sconti fino in fondo e che ci siano delle sacche nel nostro ordinamento in cui si annidano dei rischi di impunità o di immunità ingiustificata. Ecco, l'altro obiettivo che mi propongo per il 2015 è quella di proporre al governo una legge sulla certezza della pena, una legge sulla certezza della pena che possa assicurare a tutti i nostri concittadini ed anche a tutti gli uomini delle forze dell'ordine che arrestano un rapinatore o che fanno un'azione importante che poi il sacrificio delle forze dell'ordine e il diritto alla sicurezza dei nostri concittadini non venga mai sorpassato o sopraffatto da altre esigenze e da altri obiettivi. Abbiamo alcune zone d'ombra in questo bilancio positivo sulle quali intendiamo lavorare. La prima è che ci sono stati troppi feriti, 763 abbiamo detto, troppi feriti tra le forze dell'ordine nell'ambito dei servizi di ordine pubblico. Sono troppi e nel 2015 dovranno essere di meno. Dovremo lavorare per rendere ancora più sicura la loro azione. Abbiamo poi notato una leggera flessione nel numero degli arresti e delle denunce e anche su quello noi lavoreremo per capire qual è stata la ragione di una diminuzione delle denunce e fare in modo tale che questo dato possa migliorare. Poi abbiamo l'obiettivo di riorganizzare la governance dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e qui presente il prefetto Postiglione che la dirige in modo tale da rendere più efficiente la gestione dei beni e più celere la loro attribuzione ai soggetti, siano essi enti locali, a organizzazioni no profit che saranno chiamati a gestirli nel campo della legalità. Per fare questo noi dovremo riorganizzare con una legge la governance dell'Agenzia. Perché? Perché è stato un tale successo in questi 5-6 anni quello che è stato realizzato dallo Stato in termini di sequestri, confische, di beni, di aziende quindi di immobili, di aziende e financo di beni, di soldi liquidi, di denaro liquido che la strumentazione normativa, le leggi che 5-6 anni fa abbiamo approvato per gestire tutto questo adesso hanno bisogno di una manutenzione legislativa per realizzare gli obiettivi che ho detto. Ed infine, ne abbiamo parlato anche di recente alla presentazione del rapporto semestrale della DIA c'era anche il Presidente della Commissione Nazionale Antimafia una più efficace azione nelle gestioni commissariali dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose in modo tale che su questi temi ci possa essere anche un'azione più incisiva quando i commissari entrano in pista a governare gli enti locali. Questo quadro è un quadro che è tipico, quello che vi ho illustrato, è tipico di una grande potenza di un grande Paese democratico che fa i conti con la modernità avrei potuto a lungo parlarvi del cybercrime, degli attacchi informatici alle infrastrutture critiche avrei potuto parlarvi dei furti di identità elettroniche di un'altra serie di questioni che attengono alla modernità e che noi teniamo sotto controllo anche con un'azione internazionale ed europea che ha visto l'Italia protagonista in questo semestre di Presidenza. Bene, tutti questi temi noi li abbiamo affrontati grazie all'azione forte di tutti i nostri uomini del sistema della sicurezza e dell'ordine pubblico che io ringrazio ancora. Questo ci permette di dire che gli obiettivi che ci diamo per il 2015 ossia la lotta al terrorismo internazionale ed una apposita legge una legge sulla sicurezza urbana, una legge sulla certezza della pena e la manutenzione di una serie di strumenti la legge per quanto riguarda le gestioni commissariali quella per i beni confiscati una azione che riguardi l'obiettivo di fare diminuire i feriti delle forze dell'ordine in materia di ordine pubblico il perché alcuni reati vengano denunciati di meno bene, tutto questo sarà nelle nostre priorità dell'anno prossimo. Io vi ringrazio per avere partecipato a questa conferenza stampa di consuntivo del 2014 con qualche legame ovviamente anche all'azione degli altri otto mesi del 2013 nei quali sono stato Ministro e sono pronto per le vostre domande. Alberto D'Argenio di Repubblica Ministro, lei parlava del disegno di legge contro il terrorismo internazionale e suppongo che si tratti di una legge per evitare casi insomma per combattere il fenomeno dei lupi solitari di casi come quelli che abbiamo visto in Australia, in Canada anche in questi giorni in Francia ci può dare qualche dettaglio in più di come funzionerà? Una seconda domanda nei minuti in cui lei parlava un'agenzia stampa ha battuto la notizia di un'allarme bomba in zona viminale non so se è stato successivo al suo inizio se ci può spiegare oppure dopo Rispondo alla seconda domanda che se ci sono delle dirette televisive può apparire più urgente era una sveglia ed era in un pacco quindi la vicenda è stata immediatamente individuata come un qualche cosa di non preoccupante quindi possiamo continuare tranquillamente la nostra conferenza stampa invece riguardo la domanda sul terrorismo internazionale noi ci muoveremo su tre livelli punire efficacemente coloro i quali hanno intenzione di andare a combattere in teatri di guerra stranieri in modo tale che la loro punibilità prescinda dall'essere reclutatori oggi è possibile in base alla normativa punire il reclutatore è più difficile punire chi abbia individualmente intenzione magari essendosi autoradicalizzato abbia intenzione di andare a combattere in terra straniera per noi ovviamente il rischio è che qualcuno di questi vada a combattere lì e poi torni in Italia assumendo la condizione del reduce che magari vuole commettere un attentato in Italia il secondo livello di azione riguarda la possibilità di controllare con misure tipiche di prevenzione e quindi con lo schema già utilizzato nei confronti dei mafiosi controllare gli spostamenti e i movimenti di coloro i quali da noi vengono sospettati di attività terroristiche un terzo livello è tentare virgola nel rispetto della libertà di comunicazione virgola lo dico per una precisione che mi pare indispensabile di contrastare di contrastare la retorica radicale di proselitismo del califo e dei suoi adepti attraverso la rete attraverso il web da questo punto di vista noi abbiamo già delle azioni che si sono rivelate efficaci abbiamo anche sviluppato una cooperazione con i colossi del web noi abbiamo preso contatti sia in termini europei in sede europea con i colossi da twitter a facebook ma ce ne sono ovviamente anche degli altri e lo stesso abbiamo fatto per la loro rappresentanza italiana anche con i loro referenti italiani per raggiungere due obiettivi il primo di fare emergere quella virtuosa contro retorica che c'è in rete e che è antiterroristica da parte di milioni di cittadini che sono presenti nelle communities e dall'altro lato fare in modo tale che se la rete viene percorsa da messaggi di radicalizzazione o di proselitismo terroristico questi messaggi possano essere immediatamente individuati per tentare di risalire a chi li ha messi in rete propalati Allora Rai News 24 abbiamo parlato Angela Caponnetto Rai News 24 abbiamo parlato di terrorismo internazionale in Italia adesso rigurgiti forse di terrorismo nazionale nei giorni scorsi l'Aquila terroristi neri arrestati Bologna Firenze le linee ferroviarie in questi giorni il Viminale è pronto a una nuova stagione del 2015 purtroppo Noi abbiamo avuto nel 2014 10 azioni di danneggiamento nei confronti del sistema ferroviario italiano da gennaio a dicembre ne abbiamo contati 10 dal dal Trentino alla Toscana l'Emilia Romagna negli ultimi tre giorni ne abbiamo assistito a due eventi di questo genere e allora chi si oppone all'alta velocità sappia che non intimidirà lo Stato italiano il nostro governo e il nostro Paese non hanno paura hanno democraticamente deciso di realizzare un'opera e quell'opera sarà completata non ci faremo impaurire teniamo sotto controllo la situazione noi sappiamo che importanti pubblici ministeri che hanno servito procure nelle quali è stato anche versato sangue negli anni del terrorismo hanno configurato come ipotesi di terrorismo che poi non ha trovato l'approvazione dalla Corte giudicante ma questo non ci fa venire meno la preoccupazione che ci possano essere nuove insorgenze e nuovi tentativi di organizzazione che magari invece di partire dalle fabbriche possano partire da un antagonismo nei confronti della realizzazione delle grandi opere noi siamo allerta lavoriamo siamo certi di riuscire a prendere come quasi sempre è accaduto nel nostro paese i responsabili e i colpevoli e su questa strada sono già al lavoro le nostre forze dell'ordine bene allora se non ci sono altre domande vi ringrazio e vi auguro un buon Natale